Raccolta firme oggi ad opera del PD in centro all'Aquila per la richiesta di fissare un salario minimo, così facendo più di 3 milioni e mezzo di persone in Italia, poveri anche se lavorano, beneficerebbero della proposta di legge unitaria sul salario minimo delle opposizioni che rafforzerebbe la contrattazione collettiva fissando il salario minimo legale a 9 euro l'ordilora. Il governo però per il PD continua a perdere tempo senza dare risposte. L'invito per la raccolta firme è partito dal PD a Bruzzo, raccolto dai Demma all'Aquila. Innanzitutto perché c'è una questione salariale generale, il lavoro non è più purtroppo motore di emancipazione, in Italia chi lavora continua ad essere povero, il salario minimo è un segnale di dignità, io direi il primo e c'è una cosa molto chiara, chi lavora a prescindere dal suo contratto, dal settore di appartenenza, dalla tipologia del suo contratto individuale non può guadagnare meno di 9 euro l'ora, è una cosa semplice di dignità. L'importante è che la spinta arrivi dai territori, questo è un messaggio chiaro che è lanciato dall'Aquila ma anche da altre città. Assolutamente perché nei territori sappiamo bene che cosa vuol dire crisi, che cosa vuol dire lavoro, che cosa vuol dire lavoro povero, quindi si parla di livelli essenziali di assistenza per quanto riguarda la sanità, di livelli essenziali di prestazioni, in questo paese devono esserci livelli essenziali nel lavoro di diritti e di salario. Grazie. Grazie.